la tua preghiera aiuta altri aiutandoci anche voi con la preghiera affinché per il favore ottenuto per mezzo di tante persone siano rese grazie per noi da molti seconda corinzi 1 11 paolo stimola i corinzi ad aiutarlo con la preghiera paolo afferma che la preghiera di intercessione è un valido aiuto che porta frutto il favore ottenuto la tua preghiera di intercessione è un atto d'amore amore puro e disinteressato la persona per la quale preghi potrebbe anche non sapere che tu lo stai facendo non importa sarà comunque per lei un aiuto molto concreto il nemico cercherà sempre di farti credere che la preghiera è inutile ma la scrittura afferma al contrario molto può la preghiera del giusto giacomo 5 16 siano rese grazie per noi da molti pregando non solo fai del bene alla persona per la quale preghi ma contribuisci anche all'edificazione del regno di dio se senti nel tuo cuore di pregare per gli altri lo sai che puoi entrare a far parte del nostro gruppo di intercessione noi preghiamo per ogni richiesta che riceviamo dai lettori di un miracolo ogni giorno la risposta alla tua preghiera di intercessione è l'ultimo dei benefici da non dimenticare spero che questi giorni ti siano stati di benedizione non vuoi dimenticare nessuno dei benefici che abbiamo elencato allora non esitare a riascoltare o rileggere le meditazioni dei giorni scorsi molto può la tua preghiera di intercessione grazie di esistere emanuel go grazie a tutti